Veramente un'energia che ci hanno trasmesso loro a noi e ci ha convinto in questa giornata, veramente bella non soltanto per la parte sanitaria ma soprattutto per la parte di vita e sociale che le giovani generazioni riescono a darci. Sono stati 250 i ragazzi tra i 12 e i 19 anni che si sono recati negli hub vaccinali o nei reparti di pediatria durante l'open day lanciato dalla ASD Toscana Sud-Est sabato scorso. 90 si sono vaccinati in provincia di Arezzo, 80 a Siena e 80 a Grosseto. È il dottor Marco Martini a ricordare ai nostri microfoni l'importanza della vaccinazione in questa fascia di età non tanto per l'insorgere della malattia quanto per i casi cosiddetti di long covid. Cioè i bambini, i ragazzi, gli adolescenti possono avere sintomi prolungati che durano anche diversi mesi. A parte la perdita di olfatto che può essere comunque una cosa mal tollerata e che può durare settimane intere se non mesi ci sono anche descritti, abbiamo avuto casi di stanchezza, malessere, nebbia mentale cosiddetta quindi difetto di concentrazione che durano settimane o mesi. Quindi questo giustifica alla grande l'opera di vaccinazione. È un momento secondo me molto indicato perché le persone, le famiglie, si sentono più protette in un ambiente pediatrico come il nostro anche perché lo conoscono, è un ambiente che hanno frequentato. Per esempio in questi stessi ambulatori noi facciamo regolarmente una vaccinazione in un ambiente protetto dei ragazzi che sono allergici, quindi conoscono i nostri ambulatori. L'organizzazione è molto semplice, i bambini, le famiglie accedono e appunto come vi ho detto numerosi stanno accedendo in questo modo con ingresso libero e qui c'è tutta una struttura di medici specializzanti, infermiere e vaccinatore e l'amministrativo per cui la catena funziona molto bene e quindi c'è una registrazione, una sala di attesa, un vigile controllo dei bambini vaccinati e ragazzi vaccinati. Ed è il dottor Antonio Durzo, direttore generale della ASL Toscana Sud-Est, a confermare che le autorità sanitarie proposte sono in procinto di esprimersi definitivamente anche per il vaccino per i bambini under 12. Per questo la stessa azienda sanitaria potrebbe predisporre degli hub specifici all'interno dei quali le famiglie potrebbero trovare i pediatri come figure di riferimento.